Davide contro Golia c'è la storia ci sono le favole quella scritta l'Armando Pic in questa dodicesima giornata porta i colori bianco verdi forse pochi se lo sarebbero aspettati a maggior ragione dopo il vantaggio degli ospiti poi la squadra è riuscita a ribaltare portare in fondo una vittoria storica ne parliamo con il tecnico di bianco verdi Matteo Nicolai sì la soddisfazione è tanta tantissima perché è veramente così la differenza tra noi e il prato a livello di storia a livello di società a livello di tutto è abissale oggi questa differenza è rimasta fuori qui sul piazzale Montello in campo non si è vista perché abbiamo dato battaglia abbiamo giocato bene contro un avversario di sicuro valore quello si è vista e si sapeva però la soddisfazione è immensa perché tante volte il calcio non vince sempre tra virgolette più potente che cosa ti è piaciuto di più oggi nella sua squadra io intravedevo nella squadra il divertimento di affrontare partite del genere senza con la prensione giusta la concentrazione al massimo come sempre contro chiunque però godere di giocare partite del genere perché noi non c'eravamo abituati però ora si è preso gusto e è bello effettivamente giocare contro avversari del genere è veramente bello faccio due pensieri a voce alta il primo quando l'avversario è rimasto in 10 eravate sotto di un gol tutti si aspettavano che tu buttassi subito nella mischia un altro attaccante invece non l'hai fatto è arrivato il pareggio addirittura il vantaggio poi quando c'era da difendere il vantaggio hai messo dentro a quel punto un'altra punta che cosa ti è passato per la testa allora rimasti in 10 questi ragazzi ormai me ne ha dito cosa voglio sanno che se si gioca in ampiezza e si allarga una difesa in inferiorità numerica si può si può creare problemi a tutti poi la seconda cosa che ho pensato è che rimasti in 10 il prato abbassava la pressione sul nostro centrocampista centrale sì che ci dava modo di partire da lì con l'azione e veramente sanno in campo cosa fare e poi il secondo pensiero quando poi siamo andati in vantaggio è stato quello di bloccare i due mediani lì davanti con uno di gamba come Brizi e uno di qualità come Turini e mettere un riferimento offensivo che ci potesse far respirare dalla prevedibile scatto d'orgoglio del prato per impattare la partita mi è andata bene sa le scelte le fai in un secondo però lì volevo fare il terzo gol non è che volevo difendere se non faccio altre scelte se voglio difendere il risultato ma non rientra non mi riesce ancora non mi riesce una gestione del genere preferivo chiuderla sul 3 a 1 la squadra ha affrontato piazze importanti fiorenzo ho l'abbiamo visto il rimini oggi il prato non sempre si può vincere però la classifica parla sempre più chiaro si cresce di consapevolezza che cosa sta maturando appunto alla luce anche dei risultati collezionati e di un futuro che ancora da scrivere perché siamo solo alla dodicesima il giro di boa è ancora abbastanza lontano c'è ancora tanto da fare certo sì sì c'è tanto da fare però penso che chiunque non si aspettasse una pro liborno in queste zone di classifica tanti scoprono ora cos'è la pro liborno dove alla pro liborno da dove viene la pro liborno è la soddisfazione più grossa che in una categoria così importante comincino a parlare di questi ragazzi di questa piccola società che in confronto ad altre società è veramente veramente piccola però in campo poi siamo tutti uguali in serve società società blasonate storia se giocano con noi in questa categoria vuol dire che che si hanno avuto una storia che però ci possiamo stare anche noi per chiudere questo intenso gennaio ci sono ancora due impegni domenica si va a forlì altra piazza importante poi la marignanese insomma bisogna continuare su questa strada certo sì sì noi non è che col prato fai si è dimostrato che col prato con una signora squadra una squadra che punterà fino all'ultimo minuto a vincere il campionato la concentrazione massima si va a forlì perché si è vinto col prato si va noi si va a fare la partita la nostra partita a forlì cercando di imporre le proprie le nostre idee il nostro modo di giocare e provare a vincere la partita a forlì e poi dopo con la marignanese e quando verrà l'aglianese ci giocherà contro l'aglianese no questa è la cosa che mi preoccupa meno ringraziamo il mister buon perseguimento buon lavoro grazie a tutti